capitolo ventitresimo frattanto scatenarsi d'ira il solo arcivescovo l'andriani si serbò fedele alla causa del suo giovane amico e perfino nel circolo della principessa osò ricordare il fondamentale principio di diritto per il quale in ogni procedimento bisogna che un orecchio si mantenga sereno e libero da pregiudizio per ascoltare la difesa dell'imputato dopo l'evasione di fabrizio era stato divulgato a parma un sonetto mediocre che celebrava quella fuga come una delle belle azioni del secolo e paragonava il del dongo a un angelo scendente sulla terra ad ali spiegate il giorno seguente tutti nella città sapevano a mente un altro sonetto magnifico un monologo del prigioniero intanto che scendeva lungo la corda e ripensava a tutti gli incidenti della sua vita tutti i componenti vi riconobbero lo stile di ferrante palla ma a questo punto mi bisognerebbe tentare lo stile epico dove troverei colori e toni per dipinger la traboccante indignazione dei ben pensanti quando fu nota la spavalda insolenza delle luminarie della villa di sacca fu contro la duchessa un grido unanime di indignazione perfino i liberali autentici stimarono quelle feste un barbaro modo di compromettere i detenuti sospetti e di esasperare inutilmente il sovrano il conte mosca dichiarò che ai vecchi amici della duchessa non restava di meglio che dimenticarla fu un generale concerto di ira e di odi uno straniero che si fosse trovato a passare per la città sarebbe rimasto sorpreso da tanta violenta concordia della pubblica opinione ma per compenso in un paese che sa gustare e valutare giustamente il piacere della vendetta la luminaria e la festa data nel parco di sacca a 6.000 contadini piacquero in modo incredibile a parma si diceva comunemente che la san severina aveva fatto distribuire tra i contadini migliaia e migliaia di scudi e questo spiegava l'accoglienza un po dura verso una trentina di gendarmi che la polizia aveva fatto la sciocchezza di mandare a sacca 36 ore dopo la festa stupenda e l'obbriacatura generale i gendarmi ricevuti a sassate avevano dovuto scappare due di loro caduti da cavallo erano stati buttati nel po invece la rottura del serbatoio del palazzo san severina era passata quasi inosservata la notte alcune strade erano state inondate il giorno dopo si sarebbe potuto dire che era piovuto lodovico aveva avuto la precauzione di rompere i vetri di una finestra del palazzo per modo da lasciar credere che verrano entrati i ladri si era trovata anche una piccola scala ma il solo conte mosca riconobbe la genialità dell'amica sua fabrizio era risoluto di tornare a parma subito che potesse mandò lodovico a portare una lunga lettera all'arcivescovo e il fido servo tornò subito a impostare nel primo villaggio piemontese san nazaro presso pavia una lunga epistola latina con cui il degno prelato rispondeva al suo giovine protetto ci bisogna aggiungere un particolare che come tanti altri certamente parrà superfluo in un paese dove non c'è più bisogno di si fatte precauzioni il nome di fabrizio del dongo non si scriveva mai le lettere per lui erano indirizzate sempre a lodovico san micheli a locarno in svizzera o a belgirate in piemonte la busta era di carta grussolana il sigillo male applicato l'indirizzo leggibile appena e qualche volta ornato di raccomandazioni degne di una serva e tutte le lettere avevano la data di napoli anticipata di sei giorni da san nazaro presso pavia lodovico dove tornare a parma in gran fretta con una missione che a fabrizio stava molto a cuore si trattava niente meno che di far avere alla signorina conti un fazzoletto di seta sul quale era stampato un sonetto del pedrarca c'era cambiata solo una parola clelia lo trovò sul suo tavolino due giorni dopo aver ricevuto i ringraziamenti del marchese crescenzi che si protestava il più felice degli uomini e non è necessario dire che effetto le producesse questo segno di una così affettuosa costanza lodovico doveva anche procurarsi tutti i particolari possibili su tutto quel che avveniva nella cittadella e dove quindi informar fabrizio che ormai il matrimonio della signorina col marchese crescenzi era cosa stabilita quasi non passava giorno che il marchese non desse a clelia nella cittadella stessa una festa e una prova irrefutabile del prossimo matrimonio stava in ciò che il marchese ricchissimo e per conseguenza avarissimo come sono per lo più i ricchi dell'italia settentrionale faceva grandi preparativi sebbene sposasse una signorina senza dote vero è che la vanità del general conti punta da questa osservazione che se per lui era intollerabile non poteva non venire in mente a tutti lo aveva deciso a comprare per assegnarla alla figliuola una tenuta del valore di più di 30.000 lire l'aveva pagata a contanti lui che pur si sapeva come non possedesse nulla e l'aveva pagata a contanti secondo ogni probabilità coi denari del marchese le spese di contratto e accessori che salivano a 12.000 lire parvero al crescenzi uomo eminentemente logico una cosa ridicola dal canto suo egli faceva fare allione delle tappezzerie magnifiche di tinte ben combinate sotto la direzione del famoso palagi pittore bolognese queste tappezzerie ciascuna delle quali conteneva un episodio scelto nella storia della famiglia crescenzi che come tutti sanno discende dal famoso crescenzio console di roma nel 985 doveva decorare i 17 saloni del pian terreno del palazzo le tappezzerie gli orologi i lampadari portati a parma costarono più di 350.000 lire il valore degli specchi nuovi aggiunti a quelli che erano già nel palazzo ammontò a 200.000 tranne due sale affrescate dal parmigianino il più gran pittore del paese dopo il divino correggio tutte le altre erano ora invase dai più celebri pittori di firenze di roma e di milano che le decoravano fockelberg il famoso scultore svedese il tenerami di roma e il marchesi milanese attendevano da un anno a dieci bassorilievi rappresentanti altrettante gesta di quel vero granduomo che crescenzio fu anche la più parte degli affreschi delle volte figuravano fatti della sua vita ammiratissimo il soffitto in cui laiez aveva rappresentato crescenzio ricevuto negli elisi da francesco sforza da lorenzo il magnifico dal re roberto da cola di rienzo dal macchiavelli da dante e da altri grandi uomini del medioevo l'ammirazione per questi grandi del passato ha un qualche sapore depigramma contro i potenti dell'oggi queste magnificenze erano l'unica occupazione l'unico argomento dei discorsi della nobiltà e della borghesia parmense e furono ferite al cuore di fabrizio quando le lesse narrate con ingenua ammirazione in una lunga lettera che lodovico aveva fatto scrivere da un impiegato alla dogana di casal maggiore e io sono così povero pensava quattromila lire di rendita in tutto e per tutto ci vuol proprio un bel coraggio ad andarmi a innamorar di una donna per cui si fanno di questi miracoli un solo passo della lunga epistola di lodovico era scritto da lui e narrava come egli di sera si fosse imbattuto nel povero grillo in pessime condizioni imprigionato da prima poi liberato era in tristissimo arnese gli aveva chiesto per carità uno zecchino e lui in nome della signora duchessa gliene aveva dati quattro i vecchi carcerieri dodici rimessi da poco in libertà si preparavano a dare un trattamento di coltellate ai nuovi loro successori se li potevano cogliere fuori della cittadella anche grillo gli aveva detto che le serenate si facevano quasi quotidianamente che la signorina clelia era assai pallida spesso ammalata e altre cose simili questa singolare espressione fece sì che lodovico ebbe a volta di corriere l'ordine di tornare subito a locarno vi andò e le notizie che diede a voce furono per fabrizio anche più tristi si può immaginare la piacevolezza delle sue relazioni con la duchessa egli sarebbe morto piuttosto che pronunciar davanti a lei il nome di clelia e la esecrava parma e per lui tutto quel che la ricordava era fonte di commozioni sublimi la duchessa non dimenticava la sua vendetta era così felice prima del malaugurato incidente giletti e ora ora viveva nell'attesa di un fatto atroce del quale neppure avrebbe usato dire una parola a fabrizio ella che quando pigliava gli accordi col palla credeva di procurargli cagione di viva letizia col dirgli che un giorno sarebbe vendicato così tra loro era quasi sempre un silenzio cupo per rendere un po più gradevoli queste relazioni la duchessa aveva ceduto alla tentazione di fare un brutto tiro al nipote il conte le scriveva quasi ogni giorno evidentemente egli mandava corrieri come a bei tempi del loro amore perché le lettere portavano timbri di questa o di quella città svizzera il pover uomo si torturava per non parlare troppo apertamente del suo amore e per mettere assieme lettere piacevoli erano lette appena distrattamente che vale ahimè la fedeltà d'un amante al quale non concediamo che la nostra stima quando si ha il cuore tormentato dalla freddezza di colui che gli si preferisce in due mesi ella non gli rispose che una volta e solo per invitarlo a tastare il terreno e sapere se nonostante i temerari fuochi artificiali la principessa avrebbe gradito una lettera sua nella lettera che egli avrebbe dovuto presentare se giudicava conveniente il farlo si chiedeva il posto di cavaliere d'onore da poco vacante per il marchese crescenzi e si esprimeva altresì il desiderio che quella onorificenza gli fosse accordata in occasione del suo matrimonio quella lettera della duchessa era un capolavoro pieno di rispettosa affezione nello stile cortigianesco non sarà introdotta parola le cui conseguenze prossime o lontane potessero non essere gradevoli alla principessa infatti la risposta fu dettata da un'amicizia tenerissima che sente vivo il rammarico della lontananza mio figlio ed io non abbiamo più passato una serata piacevole dopo la sua brusca partenza la mia cara duchessa non ricorda dunque che è stata proprio lei a farmi aver voto consultivo nella scelta degli ufficiali della mia casa e si crede in dovere di darmi delle ragioni per la scelta del marchese crescenzi come se il suo desiderio non fosse per me un'ottima ragione il marchese avrà il posto se io conto qualche cosa e ci sarà un posto sempre e il primo nel mio cuore per la mia cara duchessa mio figlio dice le stesse cose veramente un po' arditelle in bocca ad un ragazzone di 21 anni e la prega di procurargli dei campioni di minerali della val d'orta presso belgirate può mandarle sue lettere che spero frequenti al conte che la detesta sempre e che me caro appunto per questo anche monsignor arcivescovo le è rimasto amico e tutti speriamo prima o poi di rivederla si ricordi che è necessario la marchesa ghisleri mia maggiordoma si prepara a lasciar questo mondo per uno migliore la povera donna mi ha fatto gran male e me ne fa ancora andandosene così inopportunamente la sua malattia mi fa pensare alla persona che in altri tempi avrei con tanto piacere messo a quel posto se mi fosse stato concesso di ottenere tale sacrificio dallo spirito di indipendenza di questa donna unica che fuggendo si è portata via tutta la festività della mia piccola corte eccetera la duchessa dunque vedeva tutti i giorni fabrizio sicura d'aver fatto tutto quanto era in lei per affrettare il matrimonio che lo metteva alla disperazione e così accadeva che a volte passassero insieme quattro cinque ore sul lago senza proferir parola l'affetto del giovine era vivo e schietto ma egli pensava ad altro e l'anima sua semplice e primitiva non trovava nulla da dire ella se ne accorgeva ed era questo il suo vivo tormento abbiamo dimenticato di dire a suo tempo che la duchessa aveva preso una casa a bel girate paesello incantevole che mantiene quel che il suo nome promette bella svolta del lago dalla porta finestra del salotto a terreno e la poteva mettere il piede nella sua barca ne aveva presa una non grande per la quale quattro rematori sarebbero bastati ne assoldò dodici facendo in modo da averne uno per ciascuno dei villaggi circostanti la terza e quarta volta che si trovò in mezzo al lago con questa gente bene scelta fece smettere di remare io vi considero come buoni amici disse e voglio confidarvi un segreto mio nipote fabrizio è evaso di prigione e può darsi che a tradimento cerchino di ripigliarlo per quanto sia qui in paese libero state guardinghi e avvisatemi di tutto quel che vi riuscirà di sapere vi do il permesso di entrare in camera mia di giorno e di notte i barcaioli le risposero entusiasmati sapeva farsi voler bene ma il vero è che non credeva affatto se pensasse a riacciuffare fabrizio in altri tempi cioè prima di aver fatalmente ordinato l'apertura del serbatoio non ci avrebbe pensato né punto né poco la prudenza le aveva suggerito di prendere in affitto per fabrizio un quartierino sul porto di locarno e ogni giorno o egli veniva a trovarla o ella andava da lui ma per dare un'idea del sollazzo che loro procuravano quei colloqui basti dire che la marchesa del dongo con le figliuole essendo andati due volte a trovarli le visite di questi estranei fecero loro grande piacere a malgrado dei vincoli di sangue si possono chiamare estrane e le persone che non sanno nulla di quanto a noi è più caro e che si vedono una volta all'anno la duchessa era una sera a locarno con la marchesa e le figliuole quando l'arciprete del paese venne colcurato a ossequiarle signore l'arciprete cointeressato in una casa di commercio si teneva al corrente delle notizie gli venne detto è morto il principe di parma la duchessa impallidì ed ebbe appena la forza di domandare si hanno particolari no rispose l'arciprete la notizia così secca secca ma è sicura la duchessa guardò fabrizio io l'ho fatto per lui pensò avrei fatto anche di peggio ed eccolo lì davanti a me indifferente con la testa chissà dove questo pensiero era così acerpamente doloroso che ella non ebbe forza a resistervi e cadde in un deliquio profondo tutti si diedero da fare per soccorrerla ma tornando in sé e la notò che fabrizio si era mosso meno dell'arciprete e del curato fantasticava al suo solito pensa come tornare a parma diceva ella fra sé e come rompere forse il matrimonio di clelia col crescenzi ma glielo saprò ben impedire poi ricordandosi della presenza dei due preti soggiunse era un gran principe e l'hanno tanto calognato per noi è una perdita immensa i due preti si congedarono e la duchessa per essere sola disse che andava a letto senza dubbio pensava prudenza vorrebbe che io aspettassi un mese o due prima di tornare a parma ma non avrò tanta pazienza qui soffro troppo il continuo fantasticare il continuo silenzio di fabrizio son per il mio cuore uno spettacolo intollerabile chi m'avesse mai detto che mi sarei annoiata su questo lago incantevole sola con lui e proprio quando per vendicarlo ho fatto più che io non possa fargli sapere in paragone la morte è un non nulla così sconto la gioia che provai quando lo rividi in casa mia a parma al suo ritorno da napoli una parola che avessi detto tutto era finito e forse legato con me non avrebbe mai pensato a quella ragazza ma a dir quella parola provavo una repugnanza invincibile ed ora è lei che trionfa naturale a vent'anni e io logorata dalle cure e dai malanni ne ho il doppio bisogna morire farla finita una donna di quarant'anni non conta più se non per quelli che l'hanno amata da giovine ormai non mi rimangono che soddisfazioni di vanità mette il conto di vivere ragione di più per tornare a parma e divertirmi se le cose avessero da pigliare a una certa piega mi ammazzerebbero e che c'è di male farei una morte splendida e prima di chiuder gli occhi ma soltanto allora direi a fabrizio ingrato fu per te sì sì quel po di vita che mi rimane io non posso passarla che a parma ci farò la gran signora ah che felicità se potessi ancora trovare piacere negli omaggi che facevano disperare la raversi allora mi consolava lo spettacolo dell'invidia un conforto per la mia vanità e che tranne il conte nessuno potrà indovinare come perché da che sia stato ucciso il mio cuore amerò sempre fabrizio farò tutto per la sua fortuna ma posso lasciargli rompere il matrimonio di clelia per poi sposarla lui questo poi no il doloroso soliloquio era a questo punto quando uno strepito sudì nella casa ah ecco vengono ad arrestarmi ferrante si sarà lasciato a chi appare e avrà svesciato tanto meglio avrò un'occupazione dovrò disputare loro la mia testa ma prima di tutto bisogna non lasciarsi prendere e mezzo vestita scappò in fondo al giardino stava già pensando di scavalcare il piccolo muro e fuggire per la campagna quando vide che qualcuno entrava in camera sua riconobbe bruno l'uomo di fiducia del conte solo con la cameriera si accostò alla porta finestra udì che colui parlava con la cameriera delle ferite che s'era buscate la duchessa rientrò bruno la scongiurò di non dire al conte a che ora sconveniente le si presentava subito dopo la morte di sua altezza sua eccellenza ha ordinato tutte le stazioni della posta di non dar cavalli a sudditi parmensi fino al po io son venuto con i cavalli di casa ma all'uscir dalla barca la carrozza ribaltato ed è andata in pezzi ed io ne son venuto fuori con ferite contusioni che non m'hanno permesso di montare a cavallo come avrei dovuto va bene sono le tre dopo mezzanotte dirò che siete arrivato a mezzogiorno ma badate di non sbugiartarmi la signora duchessa è sempre buona la politica in un'opera di letteratura è come una pistolettata in mezzo a un concerto musicale un che di grossolano cui pure non è possibile non badare ci bisognerà discorrere di brutte cose che per molte ragioni preferiremmo tacere ma è necessario parlare d'avvenimenti che sono di nostro dominio poiché han per teatro il cuore dei nostri personaggi mio dio com'è morta sua altezza domandò la duchessa sua altezza era la caccia d'uccelli di passo nel padule lungo il po a due leghe da sacca è caduto in una buca nascosta dal falasco era sudato l'ha preso un gran freddo l'han portato subito in una casetta isolata e lì dopo qualche ora è morto altri pretendono che siano morti anche i signori catena e borone e che tutto il male l'han fatto le casseruole del contadino tal quale si erano fermati e che erano piene di verde rame colazione in quella casa la fecero le teste esaltate i giacobini che raccontano sempre le cose come vorrebbero che fossero andate parlano di veleno io so che toto un amico mio furiere di corte sarebbe morto anche lui se non fossero state le cure di un certo povero diavolo che pare si intendesse molto di medicina e che gli ha fatto ingerire e non so che curiosi rimedi ma a parma non si parla già più della morte del sovrano veramente era un omaccio quando io son partito c'era la folla che voleva massacrare il rassi e volevano anche dar fuoco alle porte della cittadella per cercare di liberare i prigionieri ma dicevano che il general conti avrebbe sparato i cannoni c'era poi invece chi raccontava che gli artiglieri della fortezza avevano bagnato le polveri protestando che non volevano assassinare i loro compaesani ma ora viene il meglio intanto che il chirurgo di sandolaso mi rimetteva a posto il braccio è arrivato uno da parma e ha raccontato che la folla visto barbone sa quel commissario della cittadella vistolo per le strade l'ha ammazzato e poi è andata a impiccarlo a un albero dello stradone il più vicino alla porta della cittadella il popolo sarà anche mosso per andare a buttar giù la statua del principe nei giardini della corte ma il signor conte ha preso un battaglione della guardia l'ha disposto intorno alla statua e ha fatto dire al popolo che non uno che osasse entrare nei giardini ne sarebbe uscito vivo e la folla ha avuto paura il più strano è che quest'uomo arrivato da parma che è un nostro gendarme mi ha detto e ripetuto che il signor conte ha preso a calcio il generale p comandante la guardia del principe e l'ha fatto portare fuori del giardino da due fucilieri dopo avergli strappate le spalline a questo lo riconosco sclamò la duchessa in un impeto di gioia che non avrebbe la stessa immaginato un minuto prima a egli non permetterà mai che si oltraggi la nostra principessa ma il generale p era pur uno dei fedeloni e non ha mai voluto servire l'usurpatore e invece han più volte a corte rimproverato al conte men delicato di aver preso parte alla guerra di spagna la duchessa aveva aperta la lettera del conte ma ne interrompeva ogni tanto la lettura per fare a bruno domande una sull'altra la lettera era curiosa il conte usava espressioni lugubri ma l'intima gioia prorompeva ogni tratto evitava ogni particolare intorno alla morte del sovrano e conchiudeva ora certamente tu tornerai angelo caro ma ti consiglio di aspettare un giorno o due il corriere che la principessa ti manderà credo oggi o domani bisogna che il tuo ritorno sia splendido come fu audace la partenza quanto al gran delinquente che è con te penso di riaprire il processo e farlo giudicar da 12 magistrati scelti nei diversi tribunali dello stato ma per punir cotesto malfattore come si merita bisogna che io possa distruggere la vecchia sentenza se c'è il conte aveva riaperto la lettera e aggiunto un'altra storia ho fatto distribuire cartucce ai due battaglioni della guardia e sono in procinto di combattere e di far del mio meglio per meritare il nomignolo di crudele di cui da un pezzo i signori liberali mi hanno gratificato quella vecchia mummia del generale p ha usato in caserma di proporre trattative col popolo insorto vi scrivo in mezzo alla strada vado a palazzo dove non entreranno che passando sul mio cadavere addio se dovessi morire morirei adorandoti come ho vissuto non dimenticarti di far ritirare le 300.000 lire depositate in tuo nome dai di a lione ma arriva quel povero diavolo del rassi pallido come un morto e senza parrucca una figura che non è possibile figurarsela il popolo vuole a ogni costo impiccarlo e gli farebbe veramente gran torto perché merita ad essere squartato cercava rifugiarsi in casa mia e me corso dietro nella strada io non so che me ne fare non lo voglio accompagnare dal principe perché sarebbe una izzarla rivolta contro il principe stesso f vedrà se gli sono amico al rassi ho detto mi bisogna la sentenza contro il signor del dongo e tutte le copie e dite ai giudici da parte mia che sono loro la vera causa della ribellione che li farò impiccar tutti e anche voi amico mio se si lasciano sfuggire una parola di questa sentenza che non esiste mando una compagnia di granatieri a monsignor arcivescovo addio angelo caro può darsi che metta un fuoco al mio palazzo e io perderò tutti i tuoi bei ritratti ora corro a far destituire quel traditore del generale p che ne fa delle sue ora adula vilmente il popolo come già adulava il principe defunto tutti questi generali hanno del resto una paura indiavolata bisognerà credo che mi faccia nominar generale in capo la duchessa ebbe l'accorgimento di non mandare a svegliar fabrizio in quel momento sentiva pel conte un'ammirazione che somigliava molto all'amore tutto considerato penso bisognerà che lo sposi gli scrisse subito e mandò uno dei suoi quella notte non ebbe tempo d'essere infelice il giorno dopo verso il mezzogiorno vide una barca con dieci rematori a bordo che fendeva rapida le acque del lago tanto lei quanto fabrizio riconobbero presto un uomo che vestiva la livrea del principe di parma era infatti un corriere che appena smontato le disse la rivolta è domata e le consegnò lettere del conte una bellissima della principessa e un'ordinanza del principe ranuccio ernesto quinto che la nominava duchessa di san giovanni e maggior doma della principessa madre il giovine principe dotto in mineralogia e che ella credeva uno sciocco aveva avuto lo spirito di scriverle un biglietto signora duchessa il conte mosca dice che è contento di me tutto si riduce a qualche fucilata affrontata accanto a lui il mio cavallo è stato ferito a sentire il chiasso che si fa per così poco mi è venuto il desiderio di prender parte a una vera battaglia ma che non sia contro i miei sudditi io debbo tutto al signor conte mosca tutti i miei generali che non hanno mai fatta la guerra si sono comportati come conigli due o tre credo sono scappati fino a bologna dopo il grande e doloroso avvenimento che mi ha chiamato al trono nessuna ordinanza ho firmato con maggior piacere di quella che la nomina maggior doma di sua altezza la principessa mia madre e sei dio ci siamo ricordati che un giorno la signora duchessa ammirò la bella vista che si gode dal palazzetto di san giovanni il quale è fama abbia appartenuto al petrarca mia madre ha voluto regalarle questa piccola tenuta e io non sapendo che donarle e non osando offrirle quello che è già suo ho voluto farla duchessa del mio paese non so se la sia tanto erudita da sapere che san severina è titolo romano ho conferito il gran cordone del mio ordine al nostro degno arcivescovo che ha mostrato una fermezza rara in uomini di 70 anni spero che ella non mi vorrà male dall'avere io richiamate tutte le signore dall'esilio mi dicono che d'ora in poi non debbo sottoscrivere che dopo aver messo affezionatissimo mi spiace che mi facciano prodigare un'attestazione la quale non è completamente vera se non quando mi dico suo affezionatissimo ranuccio ernesto a leggere questa lettera si crederebbe che la fosse in altissimo favore tuttavia in un'altra del conte che le giunse un paio d'ore dopo c'era un che di singolare non si spiegava bene ma la consigliava di scrivere alla principessa che una indisposizione momentanea la costringeva a ritardare di qualche giorno il ritorno a parma ciò nonostante la duchessa e fabrizio partiron subito dopo pranzo ella in fondo per quanto non lo confessasse neppure a se stessa voleva affrettare il matrimonio del marchese crescenzi e fabrizio dal canto suo viaggiò in una vera estasi di felicità che a momenti parvi a sua zia perfino ridicola sperava di veder clelia e almanacava disegni di rapimento anche contro la volontà di lei ove non ci fosse altro mezzo di mandare all'aria quel matrimonio così il viaggio fu allegro alla stazione della posta prima di giungere a parma fabrizio riprese l'abito ecclesiastico di solito era vestito a lotto quando rientrò nella camera della duchessa questa gli disse le lettere del conte hanno qualcosa di misterioso che non riesco a capire se tu volessi darmi retta dovresti fermarti qui qualche ora ti manderò un corriere appena gli avrò parlato ci volle del bello e del buono per persuader fabrizio di arrendersi a questo suggerimento così ragionevole il conte accolse la duchessa che chiamava sua moglie con manifestazioni di gioia degne di un ragazzo di 15 anni stette un pezzo senza parlare di politica poi quando venne all'increscioso argomento le disse hai fatto bene a non far arrivare qui fabrizio ufficialmente qui siamo in piena reazione indovina chi mandato per collega come ministro della giustizia il rassi il rassi cara mia che io trattai da quello straccione che è il giorno della rivolta a proposito ti avverto che qui non è accaduto nulla se leggi la gazzetta vedrai che un impiegato della cittadella un certo barbone è morto cadendo da una carrozza la sessantina di mascalzone che sono rimasti morti nell'assalto della statua in giardino stanno benissimo ma viaggiano il conte zurla ministro dell'interno è andato in persona alle case di ognuno di questi infelici eroi e ha elargito 15 zecchini alla famiglia o agli amici con l'ordine preciso di dire che il morto era fuori paese e con la minaccia della prigione a chi si fosse lasciato uscir di bocca che fu ammazzato un impiegato del mio ministero degli esteri è stato spedito in missione ai giornali di milano e di torino perché non parlino dell'incidente malaugurato come si è stabilito di chiamarlo e dovrà andare fino a parigi e a londra per far stampare smentite quasi ufficiali a tutto quel che si potesse raccontare dei nostri disordini un altro è stato mandato a bologna e a firenze io ho lasciato fare ma il bello è che alla età mia ho avuto veramente uno slancio d'entusiasmo nel parlare ai soldati della guardia e strappare le spalline a quello scimmunito di p in quel momento avrei senza esitare data la vita per il principe ora è vero riconosco che sarebbe stata una fine alquanto stolida il principe sebbene bonaccione darebbe oggi cento scudi perché io morissi di malattia non osa ancora chiedermi le dimissioni ma ci parliamo più di rado che si può e io gli mando una gran quantità di piccole relazioni per iscritto come facevo col padre dopo l'arresto di fabrizio a proposito io non mi sono ancora divertito a ridurre in pallottole la famosa sentenza per la semplice ragione che quel briccone del rassi non me l'ha consegnata ancora è stato dunque bene non averlo fatto tornare pubblicamente fabrizio quella sentenza è ancora esecutoria certo non credo che il rassi oserebbe fare arrestare nostro nipote oggi ma tra 15 giorni chissà se fabrizio vuole assolutamente tornare a parma venga a casa mia ma tutto questo perché domandò la duchessa meravigliata al messo in testa al principe che mi do arie di dittatore e di salvatore della patria e che voglio menarlo per il naso aggiungono che parlando di lui mi si è fatalmente scappato detto questo ragazzo e può anche essere quel giorno era un po esaltato per un momento lo presi perfino per un gran duomo perché non aveva troppa paura tra le prime schioppettate che sentiva non manca di intelligenza è meglio del padre insomma ripeto il cuore è buono ma cuor sincero e giovine freme al sentir raccontare una briconata e crede che deve avere proprio un'anima nera chi si accorge di codeste cose pensate come è stato educato ma vostra eccellenza avrebbe dovuto pensare che un giorno sarebbe stato il padrone e mettergli accanto un uomo di valore prima di tutto c'è l'esempio del con di jac che chiamato qui dal marchese di felino non riuscì a far del suo alunno che il re dei balorti andava alle processioni e nel 96 non seppe trattare con buona parte che gli avrebbe triplicato il territorio e poi io non ho creduto mai di rimanere ministro dieci anni e ora che son seccato e sfiduciato specialmente da un mese a questa parte penso soltanto a mettere assieme un milione prima di piantare questa babilonia che ho salvato se non ero io parma per due mesi sarebbe stata repubblica conferrante palla per dittatore la duchessa rossì il conte ignorava noi riprecipitiamo verso la monarchia tipo secolo decimo ottavo il confessore e la favorita in fondo il principe non ama che la mineralogia e forse un po voi signora mia da che regna il suo cameriere del quale ho fatto capitano il fratello dopo appena nove mesi di servizio è arrivato a ficargli in testa che lui ha da essere più felice di chiunque altro perché il suo profilo sarà inciso sulle monete e con questa bella idea gli è cominciata la noia ora gli ci vuole per rimedio a questa noia un aiutante di campo e quando pur mi offrisse quel famoso milione che ci bisogna per vivere discretamente a napoli o a parigi io proprio non vorrei essere questo rimedio alla noia e passare ogni giorno quattro o cinque ore con l'altezza sua e poi siccome sono più intelligente di lui dopo un mese mi prenderebbe per un mostro il padre era tristo e invidioso ma aveva fatto la guerra comandato corpi d'armata e questo l'aveva un po formato in lui c'era la stoffa del principe e io potevo essere un ministro buono o cattivo ma con questo benedetto figliuolo candido e troppo buono sono obbligato a essere un intrigante mi toccherà ad essere rivale dell'ultima pettegola di palazzo e in condizioni di inferiorità perché non saprò mai badare a certi particolari per esempio tre giorni fa una di quelle donne di guardaroba che distribuiscono negli appartamenti tutte le mattine gli asciugamani di bucato ha fatto smarrire al principe la chiave d'una delle sue scrivanie e sua altezza non ha voluto occuparsi degli affari le cui carte sono dentro questa scrivania era facile con venti lire far staccare le tavole di fondo o ad operar grimaldelli o altre chiavi ma ranuccio ernesto quinto mi ha detto che così si sarebbero date cattive abitudini al fabbro ferraio della corte finora gli è stato assolutamente impossibile di voler per tre giorni di seguito la stessa cosa se fosse nato il ricco signor marchese tal detali questo principe sarebbe stato uno degli uomini più stimabili della corte una specie di luigi sedicesimo ma con la sua pia ingenuità come potrà evitare tutti i sapienti tranelli che lo circondano e il salotto della raversi è più forte che mai vi hanno scoperto che io io che ho fatto sparare sulla folla e che ero deciso a far ammazzare 3000 uomini se bisognava per non consentire sfregi alla stato del principe che fu il mio sovrano io hanno scoperto sono un liberale arrabbiato che volevo fargli firmare una costituzione e altre fanfaluche simili con tutti i loro discorsi di repubblica questi pazzi ci impedirebbero d'aver la migliore delle monarchie insomma voi siete la sola persona di questo partito liberale di cui io dovrei secondo i miei nemici essere il capo sul cui conto il sovrano non si sia espresso in termini sgarbati l'arcivescovo soltanto per aver parlato con equità di quel che feci durante l'incidente malaugurato è in disgrazia subito dopo i fatti che ancora non si chiamavano malaugurati quando era ancora vero che c'era stata la rivolta il principe disse all'arcivescovo che nel caso di un nostro matrimonio mi avrebbe fatto duca affinché poteste conservare il titolo di duchessa oggi credo sarà fatto conte il rassi che io feci far nobile quando mi vendeva i segreti del sovrano e se questo avviene io ci farò la figura dell'imbecille e il povero principe si caccia in un pantano sicuro ma lui resta il padrone qualità che in quindici giorni basta far scordare il ridicolo ah cara duchessa andiamocene ma noi non siamo ricchi lo so né voi né io però abbiamo bisogno di lusso datemi un posto in un palco a san carlo e un cavallo è tutto quello che mi ci vuole un po più di lusso un po meno non sarà questo che determinerà la nostra condizione nel bel mondo sarà il piacere che le persone intelligenti avranno nel venire da voi a prendere una tazza di tè e che sarebbe avvenuto nei giorni malaugurati se vi foste tenuto in disparte come spero che farete da ora in poi ma le truppe avrebbero fraternizzato col popolo ci sarebbero stati tre giorni di assassini e di incendi qui ci vogliono trecent'anni almeno perché la repubblica non sia un assurdo poi un paio di settimane di saccheggi finché qualche reggimento straniero non fosse venuto a metter le cose a posto ferrante palla era tra il popolo pieno di coraggio e fu ribondo al solito certamente c'era una dozzina di persone d'accordo con lui e questo basterà al rassi per mettere assieme una magnifica congiura certo è che con un vestito da straccione distribuiva oro a piene mani la duchessa meravigliata di tutte queste novità si affrettò ad andare a ringraziare la principessa al suo entrare la dama di palazzo le consegnò la piccola chiave d'oro che si porta alla cintola segno della suprema autorità nella casa della principessa clara paolina fece uscir tutti gli altri e rimasta sola con l'amica sua durò un pezzetto a tenere il discorso a mezz'aria a dire e non dire la duchessa che non intendeva il perché di quel gioco rispondeva con grande riserbo finché la principessa piangendo l'abbracciò e disse le mie sciagure ricominciano mio figlio mi tratterà peggio che il padre io saprò impedirlo rispose vivamente la duchessa ma prima di tutto vostra altezza si degna accogliere l'omaggio del mio profondo rispetto e della mia viva riconoscenza che dice domandò la principessa un po inquieta nel timore d'una dimissione vorrei dire che ogni volta vostra altezza mi consentirà di volgere a destra il viso mobile del cinese di porcellana che sta sul camino mi permetterà anche di chiamarle cose con loro vero nome non si tratta che di questo cara duchessa rispose clara paolina levandosi e andando ella stessa a voltare il viso del fantoccio cinese e con dolcissimo tono di voce soggiunse signora maggiordoma parli pure e con tutta libertà vostra altezza l'altra riprese ha capito benissimo lei ed io corriamo ambedue grandi pericoli la sentenza contro mio nipote non è stata revocata e per conseguenza quando vorranno disfarsi di me e fare offesa a vostra altezza lo rimetteranno in prigione quanto a me personalmente io sposo il conte mosca e ci andiamo a stabilire a napoli o a parigi l'ultimo atto di ingratitudine che colpisce in quest'ora il conte l'ha disgustato affatto della politica e salvo l'interesse di vostra altezza io non gli consiglierei di restare in questi impicci se non a condizione che il sovrano lo compensasse con una somma enorme vostra altezza mi permetterà di farle sapere che il conte il quale aveva 130 mila lire quando fu chiamato al potere oggi non arriva ad aver 20 mila lire di rendita da un pezzo io lo pregavo di pensare alla sua fortuna ma inutilmente durante la mia assenza egli si è guastato con gli intendenti generali del principe che erano dei bricconi e li ha sostituiti con altri bricconi che gli ha andato 800 mila lire come sclamò la principessa sbigottita come questo mi dispiace desidera vostra altezza che io volti il cinese a sinistra domandò la duchessa con gran sangue freddo oddio no sclamò la principessa ma mi dispiace che un uomo del carattere del conte si sia servito di questi modi di guadagno ma senza questo furto sarebbe stato disprezzato da tutti i galantuomini mio dio com'è possibile altezza qui all'infuori del mio amico marchese crescenzi che ha circa 400 mila lire di rendita tutti rubano e come non si avrebbe da rubare in un paese ove la riconoscenza verso chi rese i più grandi servizi non dura un mese di vero e di durevole che sopravviva non resta dunque che il denaro altezza io mi prenderò la libertà di dirle delle terribili verità e io gliel'accordo dichiarò la principessa con un profondo sospiro tuttavia mi sono crudelmente spiacevoli a conoscere orbene altezza il principe per quanto buonissimo può farla infelice assai più di quanto l'abbia fatta il padre il compianto sovrano aveva un carattere come tutti super giù l'anno ernesto ranuccio quinto non è sicuro di voler la stessa cosa tre giorni di seguito e per conseguenza ad esser sicuri di lui bisogna viverci sempre insieme e non lasciarlo parlare con nessuno e siccome tutto ciò non è molto difficile indovinare il nuovo partito ultra capeggiato da quelle due buone teste che sono il rassi e la marchesa raversi cercherà di procurare un amante a sua altezza un amante che potrà liberamente provvedere a farsi un patrimonio e a distribuire qualche ufficio subalterno ma dovrà essere garante al partito della costante volontà del sovrano io per esser sicura presso vostra altezza ho necessità che il rassi sia esiliato e svergognato voglio inoltre che mio nipote sia giudicato dai giudici più onesti che si possano trovare se questi signori riconosceranno come io spero la sua innocenza è naturale si accordiamo signor arcivescovo che fabrizio sia suo coadiutore e gli succeda quando quelli venga a morire se a ciò non riesco il conte dio ce ne andremo e in questo caso lascio a vostra altezza serenissima il consiglio di non perdonar mai al rassi e di non uscir mai dagli stati di suo figlio da vicino quell'ottimo figliuolo non le farà mai un male veramente serio io ho seguito il suo ragionamento con la dovuta attenzione rispose sorridendo la principessa dovrò dunque provvedere io stessa a cercare un amante per il mio figliuolo no signora faccia intanto che il suo salotto sia il solo in cui il principe non sia noi la conversazione su questo tema durò non si può dir quanto le scaglie cadevano a poco a poco dagli occhi della innocente arguta principessa un corriere andò a dire a fabrizio che poteva entrare in città ma di nascosto nessuno ci badò ed egli passava le giornate vestito da contadino nella baracca ad un venditore di castagne innanzi alla porta della cittadella sotto gli alberi dello stradone grazie a tutti